Intanto un plauso ai due assessori che hanno lavorato affinché questo progetto andasse in porto. L'azienda purtroppo, ahimè, ha ribadito con forza che a luglio non ci sono spiragli. Noi pensiamo che stia sbagliando, glielo ricorderemo fino a luglio e gli dimostreremo che per lo stabilimento V-Buck di Termoli non potrà essere il futuro con solo le 24 unità ma ci saranno bisogno di ben altri numeri. Adesso chiaramente lavoreremo affinché il progetto Gol formi le 116 unità che rimangono fuori da questo discorso sperando che chiaramente si rialloccheranno. Però ritorno a dire, il nostro obiettivo principale è far sì che V-Buck rimanga sul territorio con ben altri numeri non certamente quelli che oggi Battista ha ribadito, secondo me erroneamente. Lui oggi ha dato uno spaccato, che devo dire, di estrema criticità e di speranze pari a zero. Io però faccio un'analisi oggettiva di quello che sta succedendo. Da 24 unità ne hanno dovuto mettere dentro un'altra 10 per poter far fronte a quelli che erano gli ordinativi. Lui li giustifica solo con l'alluvione che c'è stata in Toscana che ha rallentato lo stabilimento di Vinci. Io invece ricordo la strategicità dello stabilimento V-Buck di Termoli che è stato sempre determinante per il gruppo e credo che, sì, parzialmente in questo momento stiamo facendo la produzione di Vinci ma il gruppo V-Buck non potrà fare a meno dello stabilimento di Termoli perché se no, diciamo, l'impatto che potrebbe avere sarebbe devastante su tutto il gruppo. Io auspico che il Presidente, l'amministratore delegato, la figlia, ragionino su questo aspetto. Qua abbiamo le professionalità migliori del gruppo. Ricordo che durante il periodo di Covid le migliori performance furono fatte a Termoli i lavoratori con uno spirito di abnegazione unico si impegnarono affinché non si fermasse V-Buck. Tutto il mondo era fermo, V-Buck lavorava, lavorava per il bene del gruppo. Io spero che il Presidente questo se lo ricordi. La Regione Molise ha attivato l'Ampal affinché il progetto Gol abbia una completezza anche con l'emanazione del bando entro gennaio. Purtroppo non ci ha aiutato il fatto che le linee guida siano uscite solamente nella prima settimana di dicembre e di conseguenza adesso dovremo nuotare controcorrente. Però ci hanno promesso, impegnandosi al massimo, che il bando uscirà a gennaio massimo, la prima decada di febbraio. A quel punto gli enti formativi si dovranno accreditare e far partire un progetto formativo che secondo noi sul nucleo industriale di Termoli potrebbe trovare soluzioni per tante di quei lavoratori. Perché il nucleo industriale di Termoli è un nucleo che sta funzionando, sta facendo assunzioni, avrà un'esplosione importante nel futuro e i siti che in questo momento hanno beneficiato di contributi da PNRR o ZES devono dar qualcosa al territorio. Non si può pensare che la politica possa solo dare. La politica dà e quando ci sono aziende che hanno preso, da quelle che sono le opportunità che il momento contingente chiaramente consente, qualcosina possono ridare. Noi speriamo che il senso di appartenenza al territorio di questi siti che ormai sono storici pongano in essere una centralità dell'uomo, del lavoratore, che essendosi legato al territorio possa avere ancora per il Basso Molise un'opportunità.